La scritta sui muri vicino alla facoltà di scienze politiche lungo via del Santo a Padova, le minacce all'assessore regionale alla scuola Elena Donazzana, cui una mano ignota augura di fare una brutta fine. Io trovo inaccettabile che si auguri la morte a un avversario politico, perché immagino che sia questa la ragione per cui vigliacchi, senza nome, senza volto, hanno scritto sul muro dell'Università di Padova quella frase contro di me. Non è la prima volta, ma non voglio accettarlo, non accetterò mai che qualcuno possa offendermi, possa minacciarmi. Non ho paura, ma mi indigno. La solidarietà alla Donazzana è arrivata anche da Giorgia Meloni, che con un post su Facebook ha condannato le minacce all'assessore di Fratelli d'Italia. L'odio di certa sinistra di cui nessuno parla, perché evidentemente è tollerato se rivolto nei confronti di una donna di destra. Forza Elena, ha scritto Meloni. Sostegna l'assessore regionale anche dal presidente Luca Zaia. Voglio vedere le anime belle, quelle che di solito accusano di violenza, che è sempre la controparte. Se avranno la forza, anche loro, di prendere le distanze da questo atto di vigliaccheria. Io mi aspetto che il Consiglio regionale lo faccia, perché non si può mai, mai giustificare la violenza, sia essa a parole, sia essa, come questa, minacciata con i fatti. Sul fatto sta indagando la Digos di Padova, che ha già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.